Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia per la rassegna stampa sportiva. Allora andiamo subito a iniziare con le pagine sportive del Messaggero Veneto. Ecco, la prima pagina c'è il mercato, le ultime notizie, le ultime voci di mercato in apertura. Ecco il titolo, mercato, le mosse bianconere. Per quanto riguarda Ertò, Ertò in Francia può arrivare Monaco, il Lorient sta trattando il difensore, l'Udinese sonda la possibilità di avere il centrale del Perugia in scadenza a giugno. Queste dunque le ultime voci di mercato che interessano poi anche Cone. Cone, ecco il titolo, il procuratore del Greco ha confermato i contatti con il club canadese della MLS, il Montreal Impact, ma non ha parlato di trattativa indirittura d'arrivo. Così dalla Spagna si è fatto sentire il Granada e poi l'Odi tratta con il Bari. Il regista napoletano è in uscita, ma non si accontenta della Lega Pro a Catania per rescindere con l'Udinese. Sta ascoltando le proposte del Bari di Colantuono, ma anche a Frosinone pare siano molto interessati. Un po' di mercato dunque in primo piano sulle pagine sportive del Messaggero Veneto, che oggi però prosegue anche il racconto dei 120 anni di storia dell'Udinese. Un compleanno che oggi punta l'attenzione sul Sogno Champions. Il Sogno Champions è realtà, titola il Messaggero Veneto. Una realtà arrivata nel 2005, quando l'Udinese partecipa alla massima manifestazione continentale. È nata la reginetta delle provinciali. L'Udinese dell'era Zaccheroni, un quinto e un terzo posto, non rappresentano un fuoco di paglia. Il tecnico romagnolo nell'estate del 98 se ne va al Milan, portandosi dietro Biro Fedelweg, ma l'Udinese continua a viaggiare nei piani alti della classifica. In panchina arriva Francesco Guidolin, in attacco il Pampasosa. L'argentino non vale Oliver a scardinare le difese avversarie. Il brasiliano è il successore del tedesco nella classifica dei cannonieri. E le 22 reti di Marzio spingono i bianconeri nuovamente in Europa. È UEFA, ma avrebbe potuto essere Champions. La differenza la fa la sciagurata partita, persa in casa con il Perugia. Per timbrare il visto europeo, l'Udinese è costretta a disputare lo spareggio con la Juventus. Si gioca sul doppio confronto. L'andata al Friuli finisce 0-0. Il ritorno al delle Alpi 1-1. Al rigore di Inzaghi, replica Poggi. Guidolin viene espulso, l'arbitro Braschi assegna sei minuti di recupero e poi ne fa giocare sette e mezzo. Guidolin non viene riconfermato e poi prosegue il racconto di questi anni importanti per l'Udinese che vedono appunto anche l'approdo in Champions League. Ecco, alcune immagini di quegli anni. Il film in bianconero ci dice il messaggero Veneto. Vediamo ancora tante foto. Vediamo anche Margiotta che ha firmato il miracolo carcistico di Leverkusen. Leverkusen e poi a quinta straripante lui a decidere il preliminare con lo Sporting. Insomma, tanti bei ricordi in queste pagine pubblicate oggi dal messaggero Veneto. Vediamo anche questa foto della festa per la conquista dell'accesso in Champions. se c'è anche un'intervista, un'intervista al protagonista, a Giampiero Pinzi, che dice Stefano Martorano ha dato e lasciato il cuore Giampiero Pinzi a Udine dove arrivò all'alba del secondo millennio per andarsene dopo 15 anni interrotti solo dal fugace esilio al Chievo. In totale fanno 13 stagioni, tutte vissute con una fedele partecipazione a una storia che l'attuale centrocampista del Brescia riavvolge a modo suo. E poi appunto c'è tutta l'intervista a Pinzi che sfoglia l'album e dice Spalletti, un genio al servizio del gruppo, il racconto del centrocampista tra ricordi e aneddoti. era un piacere veder giocare quella squadra. E vediamo anche questa foto di un altro momento di felicità per la conquista della zona Champions nel campionato 2004-2005. Ma adesso torniamo all'oggi, torniamo all'attualità perché c'è in arrivo la Roma a Udine, domenica allo stadio Friuli Dacia Arena arriva la Roma e vediamo allora come i bianconeri si stanno preparando a questa sfida. Si parla anche oggi della maschera per proteggere la fronte di Widmer. È stata trovata e quindi Widmer potrà scendere in campo con questa maschera che gli proteggerà la fronte dopo l'infortunio patito domenica scorsa contro l'Inter. Ecco la maschera per proteggere la fronte di Widmer, la realizza la Ortolab Sport di Milano. Sarà pronta domani. scongiurato lo stop di un mese per la botta presa con l'Inter. Ecco la foto anche di Widmer. Intanto appunto ieri l'Udinese ha ricominciato la preparazione in vista della Roma con un programma più soft riservato a chi ha speso di più con l'Inter. Zapata e Terò hanno svolto invece un differenziato col colombiano limitato da una contusione ancora da smaltire mentre il francese ha seguito il suo personale programma senza accusare problemi al ginocchio sinistro che lo aveva fatto penare la scorsa settimana. Tutto questo mentre sul campo esterno Del Neri ha osservato anche Cumse e Alfred sono interpreti di un 5 contro 5 in cui si è rivisto Balic dopo la febbre. Oggi la seduta al Bruseschi comincerà alle 11.30 e intanto in casa Roma il giudice sportivo ha appiedato due giocatori si tratta di De Rossi e Rudiger che quindi domenica saranno squalificati e salteranno la sfida contro l'Udinese. Andiamo sul gazzettino adesso, andiamo a vedere cosa scrive il gazzettino della nostra Udinese si lavora su Terò e Widmer, questo è il titolo dell'articolo di apertura da ieri bianconeri di nuovo al lavoro per preparare la sfida interna contro la Roma il ginocchio dell'attaccante in via di guarigione pronta la maschera che proteggerà il difensore. Anche il gazzettino quindi ci racconta come i bianconeri si stanno preparando alla sfida di domenica, una sfida che vedrà lo stadio ancora molto pieno anche se non si toccherà il pienone registrato contro l'Inter nazionale prevendite per domenica verso il tutto esaurito in curva nord ma non si raggiungerà il pienone toccato con l'Inter si arriverà probabilmente a 20-22 mila presenze allo stadio dice il gazzettino la prevendita è già in corso e per il settore ospite terminerà sabato alle 19 ancora sul gazzettino un focus su Zapata Zapata più macchina da gioco offensivo che cecchino da gol dice Marco Agrusti anche contro l'Inter ha avuto la sua occasione si era già nel secondo tempo i nerazzurri avevano chiuso la prima frazione pareggiando grazie alla prima rete di Perisic Zapata appunto ha avuto la sua occasione ma non ha centrato lo specchio provocando i soliti mugugni tra i tifosi bianconeri scrive Agrusti Zapata più macchina da gioco offensivo che cecchino da gol ci fermiamo un attimo adesso lasciamo per qualche secondo le pagine sportive dei quotidiani di oggi per collegarci con la centrale operativa della Polizia Municipale di Udine al telefono abbiamo il Vice Commissario Maria Florio buongiorno le chiedo subito qual è la situazione traffico in città buongiorno a lei e a tutti i telespettatori allora stamattina ci sono un po' di incolonamenti in particolare in Viale Venezia e in piazzale 26 luglio purtroppo si è formata una lastra di ghiaccio c'è la polizia che sta segnalando la situazione di pericolo e quanto prima interverrà il magazzino strade a ripristinare e poi abbiamo un po' di incolonamento diciamo in via Martignacco per tutto il resto è tutto tranquillo traffico intenso ma scorrevole su tutte le vie d'accesso alla città in Venezia gli incolonamenti sono dovuti alla lastra di ghiaccio che si è formata in piazzale 26 luglio non ci sono incidenti ma questo disagio legato proprio al ghiaccio presente attorno alla piazza se ho ben capito e se abbiamo ben visto anche dalle immagini sì 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 anche la fontana è tutta ghiacciata stiamo vedendo proprio questa immagine con le auto della polizia che stanno segnalando la situazione di pericolo e anche la fontana ghiaggiata quindi rinnoviamo l'invito ai nostri telespettatori a fare molta molta attenzione sulle strade perché appunto c'è il rischio ghiaccio in particolare in questa zona grazie allora al vice commissario Maria Florio grazie come sempre alla polizia municipale per questo collegamento se non c'è altro da segnalare la salutiamo e lasciamo il suo lavoro buona giornata a tutti grazie grazie ancora e buona giornata ritorniamo allora adesso sulle pagine dei quotidiani locali eravamo sul gazzettino e vediamo anche l'ultimo articolo nella pagina dedicata all'Udinese l'ultimo articolo nel taglio alto che ci parla di Bado Bado impegnato con il Ghana nella Coppa d'Africa Bado che vuole vincere la Coppa d'Africa con la sua nazionale sabato scatta la Coppa d'Africa e in Gabon si sceglie il successore della Costa d'Avorio nell'albo d'oro della competizione l'Udinese Tifa per Emmanuel Bado e Mollavaghe impegnati rispettivamente con Ghana e Mali chiudiamo il gazzettino adesso continuiamo a parlare di calcio e andiamo sulle pagine del Messaggero Veneto per parlare del Pordenone oggi si punta l'attenzione sui gol più belli realizzati dal Pordenone in questa stagione arma e cattaneo pennellate d'autore abbiamo scelto le prodezze più spettacolari fra le 39 realizzate dal miglior attacco del girone B di Lega Pro e le vediamo appunto raccontate anche in queste foto Pordenone che continua il suo ritiro a Caorle oggi ci sarà una doppia seduta per quanto riguarda il mercato a breve può arrivare zappa ci dice questo articolo prima di proseguire la nostra rassegna stampa dando un'occhiata anche alle notizie che ci arrivano dagli altri sport facciamo subito un primo collegamento con Francesca I Santoro inviata oggi ad Aquileia la vediamo davanti alla Basilica perché oggi dedicheremo il nostro approfondimento proprio ad Aquileia che è candidata al titolo di Capitale Italiana della Cultura nel 2018 ieri c'è stata un'audizione dei Vertici del Comune e anche della Fondazione a Roma partiremo da questo spunto di attualità per raccontare Francesca le ultime novità su Aquileia giusto? A te la linea Esatto Angela, siamo nel cuore di Aquileia siamo in Piazza Capitolo alle nostre spalle la Basilica la temperatura è piuttosto bassa sono almeno 6 gradi quindi adesso che ci raggiungerà tra poco il direttore della Fondazione Aquileia Tiusi vedremo dove posizionarci parleremo di questa candidatura parleremo delle varie attività della Fondazione Aquileia anche del recente accordo con la sovrintendenza e beni archeologici che di fatto ha conferito tutti i beni archeologici di Aquileia in uso alla Fondazione però ci spiegherà tutto appunto nei dettagli il direttore Tiusi per il momento ti restituisco la linea e ci rivediamo tra poco Grazie, grazie a Francesca Santoro e a Fabio Di Bernardo per questo primo collegamento da Aquileia tra poco riprenderemo il nostro approfondimento ma adesso abbiamo ancora alcune pagine sportive da analizzare parliamo di basket parliamo di un compleanno importante quello di Teoman Alibegovic un ex molto conosciuto e molto ben voluto in regione anche a Udine Alibegovic 50 anni di vita e basket Teo dice suonavo il violino e facevo atletica poi è arrivata la pallacanestro che mi ha aiutato a dimenticare la guerra racconta Teo anche il suo arrivo alla Snyder avevo in mano un contratto col Maccabi scelsi la pace del Friuli e poi appunto abbiamo tutta l'intervista leggiamo solo l'ultima domanda e l'ultima risposta cosa farà Teo da grande? che ne so ma cercherò di essere sempre riconoscente nei confronti di chi mi ha dato qualcosa andiamo a leggere anche le ultime che ci arrivano da casa GSA ancora problemi per Truccolo che torna ai box dubbio menisco GSA ancora guai ora tre partite su quattro in casa e Michalice dice Piacenza fondamentale brutte notizie per la Pugisa Udine Riccardo Truccolo sarà fuori sicuramente 15-20 giorni ma c'è il rischio che il suo infortunio possa avere intaccato anche il menisco questo aggraverebbe la sua situazione ne sapremo di più ovviamente nei prossimi giorni queste erano le pagine principali del Messaggero Veneto dedicate allo sport prima di fermarci per la pubblicità e iniziare quindi il nostro approfondimento sportivo andiamo a vedere velocemente anche le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali a cominciare dalla gazzetta dello sport che apre come abbiamo visto prima parlando di Juventus Juventus che questa sera affronterà l'Atalanta in Coppa Italia Juventus che guarda molto anche al mercato e ovviamente alle altre competizioni in cui è impegnata campionato e Champions ecco perché tra ottavi di Coppa mercato e triplete Juve piazza affari stadium 20 e 45 torna il croato contro la Super Atalanta Allegri lo definisce il vero rinforzo ci sarà rincon dall'inizio si accelera sul fronte mercato per Betancurre e Colasinac Baggio intanto in corona Di Bala è il numero 10 del futuro dice il Codino e poi un'altra notizia importante riguarda i mondiali perché la FIFA ha approvato la nuova formula del torneo all'unanimità un torneo che passerà a 48 squadre si parte nel 2026 con 32 gironi di gare e 16 gironi da 3 squadre e ovviamente ci sono molti commenti a questa novità importante per i mondiali Umberto Zapelloni della Gazzetta dice formato XXL non è da buttare un vero 48 se in circolazione ci fosse ancora blatter sapremmo a chi dare la colpa perché pur a fronte di 606 milioni di validi motivi per approvare l'allargamento del mondiale di calcio a 48 squadre dal 2026 restano parecchi dubbi più partite da 64 a 80 non garantiscono più incontri di qualità e poi ancora andiamo a leggere anche il rompipallone di Gene Gnocchi che è dedicato proprio a questo approvato il mondiale del 2026 a 48 squadre oggi iniziano le qualificazioni ironizza Gene Gnocchi vediamo velocemente anche le altre notizie per quanto riguarda il mercato vediamo la firma di Gagliardini oggi all'Inter sabato potrà partire titolare e poi ancora andando nel taglio basso vediamo anche la notizia che riguarda l'Inter che riguarda il Napoli Gabbiadini in partenza ma fa ancora gol Tris Napoli Zielinski apre lo Spezia pareggia con Piccolo al segno anche Giaccherini e sempre per la Coppa Italia oggi ci sarà alle 17 e 30 Fiorentina Chievo siamo pronti prima della pubblicità per collegarci anche con i nostri esperti dell'Osmer Arpa per le previsioni del tempo se non sbaglio dovremmo avere al telefono Marcellino Salvador anzi no Stefano Micheletti il direttore dell'Osmer Arpa buongiorno direttore buongiorno buongiorno Angela buongiorno a tutti eccomi qua ti chiediamo subito qual è la situazione che dobbiamo attenderci per la giornata di oggi per oggi dobbiamo attenderci una giornata di bel tempo sulla nostra regione su tutto il frio di Venezia Giulia però una giornata fredda quindi avremo per quanto riguarda il cielo cielo sereno poco nuvoloso perché nel pomeriggio ci sarà il passaggio di alcune velature in quota ma insomma niente di tale mentre appunto la caratteristica sarà il freddo giornata di freddo crudo sulla nostra regione le temperature le temperature minime già sono state piuttosto basse questa mattina sotto zero su tutta la regione fra i meno 4 e meno 6 sulla costa fra i meno 6 e meno 10 sulla pianura dai meno 8 meno 9 fino ai meno 10 ma anche fino verso meno 15 sui fondovalle della nostra montagna e queste temperature resteranno fredde tutto il giorno perché le massime resteranno sotto zero sulle zone della montagna arriveranno attorno allo zero sulle zone della pianura e della costa forse appena qualcosa sopra sulla costa laddove la bora che questa mattina soffi ancora soffierà ancora da moderata a sostenuta poi nel pomeriggio si attenuerà fino a scomparire del tutto per domani direttore cambierà qualcosa? domani comincerà un certo cambiamento del tempo infatti avremo un graduale peggioramento al mattino il cielo sarà ancora poco nuvoloso sulle zone della montagna e sulle zone occidentali quindi sul Pordenonese mentre sarà già da variabile nuvoloso sulle zone orientali specialmente verso la Slovenia e sulla zona di Trieste nel pomeriggio poi appunto avremo un graduale aumento ulteriore della nuvolosità quindi il cielo tenderà a coprirsi su tutta la nostra regione e verso sera o in serata cominciano delle precipitazioni precipitazioni che viste le temperature saranno nevose fino a bassa quota è possibile che la neve arrivi fin sulla pianura e anche fin sulla costa però non è sicuro questo sarà ancora da vedersi perché siamo come sempre lì su quelle zone di pianura e della costa comunque è possibile che su queste zone visto anche che il terreno è molto freddo si formino localmente del ghiaccio al suolo perfetto direttore grazie per queste previsioni poi domani ci aggiorneremo e vedremo anche tutte le ultime novità per quanto riguarda in particolare la giornata di venerdì che potrebbe portare insomma un po' di neve in più come vediamo anche dalla cartina che troviamo sul vostro sito intanto attendiamo ancora qualche ora così avremo qualche informazione qualche dato più preciso anche per le previsioni per venerdì grazie al direttore dell'Osmer Arpa Stefano Micheletti buongiorno buona giornata e buon lavoro anche a lei chiudiamo allora adesso questa avevamo già chiuso il collegamento con il direttore Micheletti e le previsioni del tempo chiudono a questo secondo blocco di buongiorno Friuli adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi inizieremo il nostro approfondimento del mattino dedicato quest'oggi come detto ad Aquileia vedo già pronta Francesca Santoro con i vertici della fondazione Aquileia tra poco andremo da lei tra poco ci raggiungerà in studio anche la vice sindaco di Aquileia per raccontare appunto come è andata l'audizione di ieri a Roma per raccontare un po' di progetti su Aquileia Aquileia candidata al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018 tutto questo tra poco dopo un po' di pubblicità rimanete con noi di Capitale